Per la rubrica dedicata alle vostre segnalazioni spazio ancora alle numerose perdite idriche presenti a Sciacca. In questo caso ci troviamo nel quartiere Perriera in via Segni. L'acqua si disperde copiosa per tutto il manto stradale, mettendo in difficoltà tutti gli utenti dei veicoli a motore e creando disagi alle varie attività commerciali presenti in zona. Se non si fa attenzione i pedoni rischiano seriamente di venire bagnati al passaggio delle auto. Non è la prima volta che si determina una perdita sempre nella stessa area, segno che qualcosa non va nella condotta. I residenti chiedono ovviamente che si intervenga prontamente e che si possa risolvere la questione una volta per tutte. Ancora perdite idriche, ma stavolta ci spostiamo in zona raganella. In questo caso l'acqua non invade la sede stradale, ma si incanala lateralmente. La perdita, a quanto pare, nasce su un terreno adiacente in mezzo a dei canneti. Da lì poi scende lungo l'arteria stradale. Come si evince dalle immagini girate stamattina dal nostro operatore, il flusso è molto copioso e litri e litri di acqua si perdono in malo modo. Queste perdite in via Segni e in via Raganella, oltre alle tante altre presenti in città, certificano ancora una volta i dati negativi di dispersione che nella sola provincia di Agrigento sfiorano il 50%. Una situazione incresciosa che pone interrogativi seri sulla gestione e sulla necessità di adoperarsi per l'opportuno rifacimento delle reti idriche. Ci spostiamo in via Agatocle per mostrarvi le pessime condizioni in cui versa il parcheggio a Tiguo al Teatro Samonà. Accedervi è sempre più difficoltoso, a causa delle profonde buche che vi sono presenti. Il maltempo dei giorni scorsi non ha fatto altro che aggravare tale situazione. Tra l'altro, l'area di sosta è una delle pochissime attive nei prestiti del centro storico cittadino. Molti automobilisti preferiscono rinunciare ad entrarvi, mentre altri testimoniano di aver subito danni alle proprie autovetture. Ci vuole molto per appianare queste voragini? Tali lavori non si potevano eseguire prima del carnevale per fornire un migliore servizio a chi arriva? E in generale è così complicato riuscire ad asfaltare quest'area e applicare l'opportuna segnaletica orizzontale per rendere tutto più decoroso e a misure di utente? Domande che ci porteremo dietro ancora non si sa fino a quando. E chiudiamo con una voragine aperta e abbandonata al borgo dello stazione. Più di un anno fa si sono avviati dei lavori sulle tubazioni sottostanti al manto stradale. La voragine è stata aperta, transennata alla meno peggio e lasciata lì così com'è. Persino il terriccio che era stato tolto per aprire la voragine è rimasto lì dov'era, tant'è che, a distanza di un anno, vi è cresciuta sopra e tutt'intorno della vegetazione spontanea, segno di incuria. Incredibile verrebbe da dire. Da allora ad oggi non se ne è fatto più nulla, nessun altro intervento e anche la delimitazione provvisoria, ovviamente, è ceduta al trascorrere del tempo, per non parlare dell'odore non sempre gradevole che si sprigiona nei pressi. I residenti chiedono che i lavori siano terminati, la voragine chiusa e l'arteria stradale restituita al borgo e alla città.